E' un'elicottero. Attenzione, gas in avvicinamento. E' un'elicottero. Annullare. La, elicottero. Elicottero abitato. Mi metto io ai comandi. Fuoco autorizzato su tutti i bersagli. E' un'elicottero. E' un'elicottero. E' un'elicottero. Mi metto io ai comandi. E' un'elicottero. Io. Mi siedo qui Mi prenderò l'autista Vado qui Mi prenderò il Mi prenderò il 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 Te ne metto a nuovo Stai perdendo terreno Non nemmeno, non nemmeno, non nemmeno, non nemmeno, così, non nemmeno, ma né, non nemmeno, non nemmeno, buon c'è la gia che avevo rotto il potere di noi, non nemmeno, non nemmeno, nemmeno, si m'è? Ho visto dell'equipaggiamento. Qui c'è una corazza. Serve a qualcuno? Ho visto dell'equipaggiamento. Ho visto dell'equipaggiamento. Ho visto. Ho visto. Ho visto. Stazione di acquisto mancana. Qui vedo movimento. Annullare. Qui c'è una pistola. Annullare. Maschera antigas disponibile. Colpi di piccolo calibro qui. Annullare. Ho un lancio di equipaggiamento in arrivo. Lo prendo io. Va bene. Ho colpito un bersaglio. Serve a qualcuno? Corazza qui. Ho colpito un bersaglio. Mi siedo di fianco. Non sto a bordo? Mi metto comodo. Bersaglio localizzato. Sì, ok. Un UAP avanzato alleato segnala Bersagli e pettori. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Ho colpito un bersaglio! Vengo anch'io! Mi chiedo di fianco. Capite, così. Non fermare. Fate guidare me. Salvo a bordo? Quel posto è mio. Mi chiedo di fianco. State perdendo terreno! Guapì il nemico in volo! Non fermare. Non fermare. Non fermare. Perchettisce. Grazie a tutti 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 Cambio Siamo tutti Ehi Versaglio Grazie a tutti Mi muovo Perfetto Mitra Arriba Arriba Grazie a tutti Gassi Grazie a tutti Tempo Arriba Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti